avendo colpito al cuore un'esperienza positiva del nuovo partito ma queste cose non sono cose agressive, onorevole urso se lei non è in grado di fare un ragionamento politico non è colpa mia se lei non è in grado di fare un ragionamento politico ma non offendere così le persone ma scusa, ti stai giudicando da te stesso ma vuole ascoltare il mio giudizio politico? ha colpito al cuore Gianfranco Fili è un giudizio politico nessuno l'ha espulso e non è che per un anno ha attaccato il governo ma come nessuno l'ha espulso? di cui lei stesso fa parte lei è un membro di un governo lei critica se stesso ma si rendi conto ma lei è un membro del governo o sì o no? lei è un membro del governo ma lei critica se stesso ma mi scusi ma lei è stato membro di un governo per due anni adesso mi viene a dire io sono membro del governo come te ma di cosa parla? senza avere un doppio incarico senza avere un doppio incarico di governo ma siamo seri è una delle regole fondamentali ma siamo seri almeno è svolgere in fondo e a tempo pieno il mandato di ministro della cultura lei è stato due anni ma lei ancora oggi viene dal governo e critica se stesso ma mi scusi ma perché tutta questa aggressività? ma lei che è aggressivo lei che è ipocrita ma perché? lei che è ipocrita ma perché mi accusi in questo modo? cerca di essere serio è di parlare di politica ma scusate io ti ho posto del problema di riforma vorrei fare un attimo per favore vorrei far intervenire la collega con città de Gregorio direttamente io ne sopporto l'ipocrisia volete per cortesia come si diceva l'espulsione dei Rom dalla Francia dalla Chiesa Cattolica sì e questo dimostra che lei diceva che lei diceva che Chessini era così vicino a Sarkozy mi sembra che sia un posto io ho citato la riforma delle pensioni ma guardi non a caso non ho citato i Rom no ma se lei mi interrompe mi lascia parlare noi siamo per il diritto europeo ma no lei ha detto che Fini è così vicino a Sarkozy io le sto ricordando io in questo momento non parlo io sono un cattolico io sto parlando di quello che lei dice lei ha detto Fini è molto vicino alle posizioni di Sarkozy Sarkozy ha preso una posizione che mi sembra esattamente il contrario di quella che propone Fini la posizione di Fini quella della cittadinanza del controllo dell'immigrazione che è esattamente opposta alla destra italiana tant'è che gli esponenti della destra italiana che sono nel PDL criticano fortemente le posizioni di Fini ed è una ragione per la quale ministro spetti che vede il governo sui respingimenti sono state fallentate io l'ho preso come il corpo della libertà che aveva delle posizioni equilibrate su tutti i problemi ma non dice mai come la pensa ma non pensi io se vuole le spiego tutto ma come è possibile io guardi a differenza di quello che lei pensa che questo è più offensivo di quello che lei dice quello che lei dice è offensivo nei miei confronti scusi ministro non parliamo un attimo lei vuole dire che cosa pensa che io sono aggressivo non parliamo di fuffa è l'ultima volta che abbiamo un confronto con lei amorevole urso no siamo pacati ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni perché chiaramente è impossibile parlare con una persona così allora